Sono due i maxi processi nei quali Vincenzo Macri dovrà comparire in qualità di imputato dopo l'estradizione dal Brasile dove l'altro ieri è stato arrestato alla termine di un'articolata indagine coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Raggio e lo SCOD della Polizia di Stato dalla Squadra Mobile di Raggio Calabria con il coordinamento e la cooperazione internazionale di Polizia e Interpol. In particolare Vincenzo Macri, figlio di Antonio Macri, ucciso nel 1975 all'inizio della prima guerra di mafia a Siderno sarà ascoltato a Locri per i reati di associazione mafiosa e di traffico internazionale di sostanze stupefacenti con l'aggravante della transnazionalità. Finisce così dopo due anni la sua latitanza. Negli ultimi tempi, lo ricordiamo, viveva in Olanda ad Alasmer dove gestiva gli interessi illeciti della cosca commiso di Siderno. Dopo il blitz dell'operazione Acero-Crupi, Vincenzo Macri si era trasferito in Sud America utilizzando una falsa identità. Si era così stabilito a Caracas dove la titante calabrese, 52enne, stava rientrando dopo un viaggio a San Paolo. Ed è là che la squadra mobile di Reggio Calabria, diretta da Francesco Rattà, lo ha rintracciato all'aeroporto brasiliano. Stava infatti salendo su un aereo quando gli agenti della Polizia di Stato gli hanno notificato il provvedimento di arresto dalla direzione distrettuale. Tra i dialoghi registrati in Olanda che rientrano nell'operazione della DDA Reggina, alcune conversazioni ambientali intercettate all'interno di un'azienda florovivaistica tra Vincenzo Crupi e Vincenzo Macri che forniscono anche un importante spaccato di recenti frizioni in atto tra diverse fazioni dell'Andrangheta Reggina radicate in Canada.